Un saluto a tutti i genoani e le genoane all'ascolto, dunque siamo all'antivigilia dell'attesissimo Benevento Genoa, sulla sponda dei campani un po' di nervosismo, se consideriamo che Cannavaro non parlerà nella consueta conferenza pre-partita, il Benevento andrà in ritiro, mentre per quanto riguarda il Genoa tanta serenità all'orizzonte. Approfittiamo di questo momento di attesa della partitissima che si giocherà sabato alle ore 14 per fare qualche considerazione riguardo alla rosa del Grifone, ricordando che mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato, notizia di poche ore fa, il passaggio all'Augusta di Yeboa che dunque andrà a giocare all'Augsburg in Bundesliga in bocca al lupo al giocatore che in Liguria non ha trovato tanta fortuna, ricordiamo prestito con obbligo di diritto di riscatto e dunque insomma le strade del giocatore e del club rosso-blu per il momento si separano, ma per il futuro non si sa mai. Allora, primo punto per quanto riguarda la situazione del Grifone, abbiamo sottolineato nei nostri titoli il portiere, abbiamo titolato ovunque Gilardino guardi, non sbaglia perché insomma anche nell'ultima partita vinta contro il Venezia, Martinez si è dimostrato un portiere di grande qualità deviando sulla traversa il tiro di Cernigoi, poteva essere un'occasione clamorosa per i Lagunari per passare in vantaggio e ancora una volta Martinez ha detto o no, come aveva detto o no, agli attaccanti del Bari. Il giorno di Santo Stefano in panchina scalpita Semper, che quando è stato chiamato in causa ha sempre e comunque detto la sua e dunque il dato oggettivo è che il Genoa può contare su due portieri molto bravi e molto giovani, vedremo se soprattutto a Semper in questi giorni di mercato verrà qualche mal di pancia o se la situazione rimarrà così e dunque Martinez e sempre rimarranno portieri del Grifone, almeno fino al termine del campionato. Un altro tema di grande attualità a proposito di trattative riguarda il mercato, come detto salutato Ievoa, è caccia a qualche colpo per quanto riguarda il DS Ottolini che possa migliorare la rosa attualmente a disposizione di Gilardino, si parla ormai da mesi della ricerca di un terzino sinistro dopo l'infortunio di Payac, dopo che Ciborra non ha convinto, è arrivato Crescito, ma non sappiamo se questa sia la scelta definitiva della società, visto che Crescito potrebbe essere impiegato anche a centrocampo, a mio personalissimo modo di vedere la prima urgenza per quanto riguarda il Genoa in questa sessione di mercato è una mezzala di qualità, una mezzala che possa fare assist per gli attaccanti, diciamo per buona parte quello che ha fatto soprattutto nelle prime partite a settembre e ottobre, quello che ha fatto ad esempio Coda, per il resto a mio modo di vedere manca un po' di qualità in questo settore nebralgico dove ci sono ottimi giocatori, però insomma Iagello, Strotman e Frendrup fanno tantissima quantità ma infatto ha qualità secondo me, manca ancora qualcosina potrebbe portarla lo stesso Frendrup, potrebbe portarla il recuperato Sturaro, potrebbe portarla anche Badel, staremo a vedere, certo è che insomma un uomo dell'ultimo passaggio, un uomo che possa avere anche il tiro da fuori aria, un uomo che potrebbe avere il cosiddetto passaggio filtrante, sarebbe tanta manna e soprattutto un colore che in questo organico io stento a vedere. Situazione attaccanti, Gilardino ha messo ordine, da quando il tecnico piemontese siede sulla panchina del Genoa il Grifone ha realizzato 6 gol, tutti con attaccanti e poi anche lunedì scorso il grande recupero di Massimo Coda, giocatore fondamentale nei piani del Grifone per dare la scalata alla Serie A, ebbene tra i tanti messaggi che la partita di lunedì ha detto da sottolineare che l'attaccante titolare è Coda, Puskas è senz'altro un valido compagno di reparto, si potrebbe giocare con l'attacco a due oppure a Puskas potrebbe essere delegata l'ultima mezz'ora, ma insomma l'uomo su cui puntare a occhi chiusi rimane Massimo Coda, un Coda che però avrebbe bisogno probabilmente di compiti diversi, lui è un uomo da area di regore, un attaccante pronto per l'ultima stoccata negli ultimissimi metri, non bisogna assolutamente a mio modo di vedere sempre sfiancarlo con il pressing o impiegarlo a recuperare il pallone oppure a giocare di sponda per i compagni di reparto, è soprattutto il reparto che deve essere al suo servizio perché insomma Coda rappresenta un'eccellenza in questo organico e come tale va senz'altro valorizzata, per il resto come detto poi ci aspettiamo senz'altro qualcosa di più da Aramu che non ha ancora fatto vedere al grifone se non per rarissimi sprazzi la sua immensa qualità per quanto riguarda Gudmundson piuttosto Ondivago una volta bene, una volta meno bene, anche questo è un giocatore che ha tutti i mezzi per creare gli strappi nelle difese altrui e poi salutiamo con grande soddisfazione il ritorno di Jalsin che grazie alla sua formidabile sponda lunedì scorso ha permesso a Coda di godere di un ottimo pallone poi tramutato in gol da Massimo, un altro giocatore dunque probabilmente recuperato da Gilardino, un altro giocatore che senz'altro ha qualità fino a questo momento per grandissima parte in estresse ma non si sa mai che Jalsin possa dare continuità allo splendido assist di lunedì scorso. Concludiamo questo spazio dedicato al grifone con la difesa, a Benevento non ci sarà Mattia Bani in quanto squalificato, verosimilmente dovrebbe toccare a Vogliacco fin dal primo minuto un Vogliacco che ha convinto sia Roma che in Coppa Italia sia contro il Venezia Vogliacco che ha avuto un grande rendimento come centrale nella difesa A3 e anche in questo caso molto duttile la difesa del grifone A4 o A3 il rendimento è sempre eccellente, ricordiamo che da quando Gilardino allena il grifone i gol subiti sono soltanto uno, quello di Cheddira contro il Bari per il resto probabilmente Ciborra verrà ceduto, c'è in piedi una trattativa pare ben avviata con il Cosenza che potrebbe essere una destinazione per questo terzino che in rosso-blu praticamente non ha quasi mai convinto e poi insomma ci sarebbe anche da recuperare Efti che sta viaggiando ormai da tantissimo tempo nettamente al di sotto di quel livello ottimo a cui ci aveva abituati nel campionato di Serie A mi permetto anche di spendere una parola per Sabelli grande lottatore, Sabelli è un giocatore senz'altro generoso come tutti i giocatori e gli allenatori e magari anche i giornalisti può sbagliare ha sbagliato senz'altro con la maglia rosso-blu ma in parallelo ha fatto anche tantissime cose giuste un Sabelli che è un maestro in categoria avendo già vinto due campionati con il Brescia e con l'Empoli un Sabelli che ha sempre e comunque dalla sua il grande agonismo e ogni tanto anche qualche sprazzo di qualità a mio modo di vedere in difesa o a centro campo un giocatore che potrà dare una grandissima mano a questo grifone è tutto per questo spazio naturalmente noi ci sentiamo nelle prossime ore per la vigilia di Benevento Genoa commenteremo le parole di Gilardino che parlerà in conferenza stampa e poi ci tufferemo in questo Benevento Genoa dove tutti gli occhi saranno sulla formazione campana vediamo se il grifone riuscirà a cogliere questa grande onda di pressione per gli avversari un grifone che lo ricordiamo viaggia verso la Campania forte di tre vittorie consecutive ormai era da tempo immemorabile che il Genoa non aveva un ruolino di marcia così gratificante grazie per l'attenzione e naturalmente buon proseguimento di giornata